ok signori cominciamo in medias res siamo in una situazione abbastanza figa sono con mic, siamo con jobbit, siamo con synex e gli hanno offerto delle bellissime le palle si esatto gli stronti profiterò però palle va bene galattico bs è molto molto cattivo ok rientra quindi si fa un'evocazione link non vi faccio vedere le carte che ho sotto perché entra salamagna lupo luce lunare questo è bellissimo perché ok si concatena con la terreno e può entrare un'altra copia di se stesso il salamagna a pari di altri massi tipo mi ricordo un po' alter guest a me personalmente ma ha sempre quel primo turno dopo il quale esplode cioè ti mette delle settate veramente incredibili ecco per esempio anche cosa è molto forte will negli altri turni di parte spacca mostri spacca carte insomma molta roba no ogni tanto diamo queste breaking news così sul momento alle 3 di notte sapete bene signori che siamo sempre molto operativi no e poi ci teneva dire lo sapevo che si teneva tramite lui si è stato evocato jack jaguar tramite volontà della salamagna adesso al prossimo turno cominceranno dei spacchini molto molto cattivi entrano loro molta roba cimitaro selezionano lui riemisco una carta yes la magna quante cose che fa come gira agire in modo veramente incredibile quasi spreggevole al giglio sarei ritorno metto sotto ora nel parallelo la comune testa carta pure uno due tre non stava a centesimi signori e ne aggiunge un altro viene evocato un altro attenzione che il povero soldato galattico sta lì a guardare stare a dire che cosa andrà a succedere my god tanta roba attenzione da del mondo sotterraneo che fa distrugge su no non c'era che posso scegliere come avversario per fare l'evocazione link minchia brutta tanto scuramente molto molto brutta una link cinque signori è incredibile puoi evocarla sotto una scusa una luce scusa su piccolo dettaglio ma può succedere scordo sempre punto con c'era la valizia attenzione una dove tre avvis molto molto siga tanta roba ragazzi ma soprattutto questa carta è veramente molto molto forte la dea del mondo sotterraneo veramente un mazzo considerevole e cambiamo anche perché può aver vinto il mondiale in questo modo è poi ha vinto anche delle ycs ragazzi tanta roba veramente molta molta roba mi sembra di capire sono 4 e 8 vabbè ragazzi che succede quando è m2 ok pesco allora io utilizzo 0 galattico con questa carta è in equipaggiamento mi fa scegli un mostro galattico del cimitero e lo fa di evocare succede succede e distrugge il mostro perché non posso distruggere la magia ah ok quindi deve essere distrutta pure lei devo utilizzare solo monster reborn ci proviamo se succede ma penso che probabilmente ok è negato ok quindi scarto lo sfidante galattico che mi metto soldato calattico in difesa passo direttamente che gioco a magica un mozione bellissimo si archiver e sta veramente un bellissimo mostro ragazzi ed è più forte di quanto pensiamo anche nella decodificatore trasmittente se non vado errato quando pagina in questo modo assolutamente infermabile in afferrabile potremmo dire attenzione attenzione signori quasi link 4 madonna ragazzi alziamo le mani qui alziamo le mani siamo direttamente alla seconda questa era bella però mi è mancato il fotonico in mano signori io vi ringrazio tanto per aver visto il video e devo dirvi sono rimasto piacevolmente stupito da saluto da anto da synex e alla prossima cari ragazzi come sempre scusate ma l'ora insomma è quella che è ci vedete anche abbastanza provati come sempre stay over stay over stay sempre over ciao ragazzetti belli ciao ciao